Valdemar Gustinelli, direttore sportivo dell'Alto Tevere Pallavolo, finalmente c'è stata la tanto attesa vittoria da tre, ma quello che ci piace è aver visto una squadra tonica, tosta, che sa quello che vuole. Sì, siamo riusciti soprattutto a raggiungere l'obiettivo che c'eravamo posti, che era quello di raggiungere e di guadagnarsi i tre punti nella gara domenica con Monza. Lo abbiamo fatto attraverso una gara sofferta e con delle prestazioni individuali in alcuni giocatori di ottimo spicco, abbiamo ancora sicuramente qualcosa da migliorare e da dimostrare in più dentro il campo come squadra nel gioco d'insieme, credo. Ora possiamo dare anche un po' di statistiche che vedo mancano dal sito della Lega, un Dore della lunga tornato a livelli impressionanti. Sì, Dore sta facendo direi un ottimo campionato e soprattutto lo sta facendo anche in queste ultime partite, soffrendo dentro la gara, attraversando momenti di difficoltà, ma poi è in grado quasi sempre di riprendersi e di essere un giocatore estremamente decisivo in questo momento per la nostra squadra. La squadra sta battendo molto bene, credo che sia terza in classifica nella speciale con 12 ace e sta ricevendo altrettanto bene perché è secondo invece per quello che riguarda le palle perfette, seguito da Tosi che è invece al terzo posto. Diciamo che i numeri ci danno abbastanza ragione, la squadra sta attaccando molto bene sia nella fase di cambio palla in quasi tutte le partite, tranne quella di Macerata, che anche nella fase break dove nonostante il nostro muro sia ancora un po' deficitario, riusciamo comunque sia a ricostruire ad essere molto incisivi con i nostri attaccanti nel momento in cui lo facciamo. Il pubblico vi segue con sempre maggior entusiasmo e non era scontato perché lo vogliamo sempre sottolineare, i risultati chiaramente da questo punto di vista aiutano, ora c'è la partita degli ex. se ti dico Matteo Piano e Andrea Sartoretti e ti parlo di Modena. Ma al quale possiamo tranquillamente aggiungere anche Roberto Ciamarra, insomma, quindi credo che sia una partita difficile dal punto di vista tecnico, particolare sotto il punto di vista degli effetti e delle conoscenze, ma niente di più perché comunque sia il nostro è uno sport molto sano, dove comunque sia di spazi per potersi confrontare anche con i tuoi ex compagni, ce ne sono tanti, e sicuramente non è il campo dove bisognerà essere docidi, ecco, ma non lo saranno nemmeno loro, credo. Parlando di un altro sport, l'alpinismo e come scalare l'Everest senza allenamento in questo momento? Beh, indubbiamente è una partita estremamente difficile, dà l'alto tasso contenuto tecnico e quindi di conseguenza imporrà ai nostri giocatori l'estremo sforzo e difficilmente, come può accadere in altri sport, possiamo fare Melina fino al novantesimo, ecco, è difficile. Però è anche altrettanto vero che la stagione dell'anno scorso ce l'ha dimostrato più volte, che occorre scendere in campo con il giusto entusiasmo e con il giusto approccio mentale, consci che le difficoltà potranno presentarsi sin dalla prima palla e quindi avere un'attività mentale positiva aiuta in certe partite. Un'ultima breve battuta, sempre parlando di bilanci di questa prima parte della stagione, la classifica è quella che più o meno in questo momento dà i valori di un alto Tevere in crescita costante. La classifica è stata smossa tre volte nelle ultime quattro partite, quindi chiaramente questo ha agevolato una crescita nella scala gerarchica del campionato. Io penso che la valutazione su questa squadra dal punto di vista della classifica la dovremmo fare alla fine della stagione, credo che ci siano delle possibilità di crescere molto, ma che al tempo stesso credo che onestamente raggiungere i play-off, i tanto agognati play-off che potrebbero essere in grande risultato la nostra vittoria, per raggiungere ciò credo che dovremo fare molto molto di più di quanto abbiamo fatto fino adesso.